Blippi, Blippi, il mondo scoprirai, molte cose imparerai, Blippi! Ehi! Oggi sono nel grande allevamento dei miei amici, la famiglia Axe. Ciao a tutti! Ci divertiremo un mondo perché vedremo cavalli, mucche e un sacco di altre cose interessanti. Ehi, Blippi! Perché non prendi una sella che andiamo a farci un giro? Sarà divertentissimo! Guardate dove siamo! Siamo dentro una vera stalla! Cody è andato a prendere il cavallo e nel frattempo vi faccio visitare la stalla. Guardate qui! È dove si tengono i cani da guardia! Woof! 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 Divertente! Uh! E qui c'è un'altra cuccia! Eh! Andiamo! Oh! Oh! Un'altra ancora! Guardate! Il cane sarà al lavoro con i cowboy perché la porta è aperta! Ma guardate! Ciao! Non c'è nessuno! Ahahah! Wow! Guardate qua! Ehi! Questo è... Fieno! Questo è Fieno! E... Sembra proprio invitante! Scherzavo! È invitante per mucche e cavalli! Non per gli umani! Wow! Lo vedete? Guardate! Venite più vicini! Wow! Wow! Ha! Nnum! Wow! Andiamo! wow, guardate un'imbracatura e un fermatesta qui è dove entra il bestiame proprio qui per essere visitato e ricevere le vaccinazioni wow è come una carriola ma è piatta qui è dove si mette il fieno per trasportarlo fino a dove ci sono le mucche wow 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 mi vengono le vertigini ok ancora una stanza venite qui wow questa è la selleria guardate wow quante selle ok per andare sul cavallo ho bisogno di voi scegliamo la nostra sella preferita tra queste ok andiamo questa? no questa? no no sì questa mi sembra perfetta ok ma prima ci serve un cuscino questi qui sopra venite guardate questo sapete di che colore è? già uno dei miei due preferiti ok prendiamo questo cuscino e poi prendiamo questo qui e poi ci servono le briglie andiamo ok ecco le briglie le mettiamo sulla sella ok ecco fatto yeah ok ok ehi grazie per aver preso la sella prego per favore passami i cuscini bene dobbiamo mettere questi per primi a cosa servono i cuscini? sono cuscini da sella vanno sotto la sella per proteggere il cavallo e questa è dove si siede il cowboy ok si mette sul cavallo dopo i cuscini e si lega sotto così non scivola via quando sali le briglie e il morso ok così chi va a cavallo usa le briglie per manovrarlo come uno sterzo dunque così e poi sopra le orecchie così e le briglie si controllano con queste redini queste sono il manubrio del cavallo ok beh vuol dire che adesso posso cavalcare? direi di sì Blippi bene Blippi è il tuo turno ok si parte buona cavalcata grazie vado questo cavallo è marrone scuro ed è una bellissima femmina il suo nome è Fancy ed è davvero mansueta è stato divertente non solo Fancy è un bellissimo animale ma lei e gli altri cavalli ci aiutano a spostare il bestiame nell'allevamento che emozione essere andato a cavallo vediamo cos'altro hanno in questo allevamento andiamo si parte questo è un quad e si chiama così perché ha quattro ruote una due tre quattro ora siete sul quad insieme a me non è divertente? all'allevamento usano un sacco di mezzi utilissimi come questo quad e come questo questo camion ribaltabile gigante e questo escavatore un po' più piccolo ma adesso andiamo a vedere il mezzo più grande dell'allevamento questo questo sì che è grosso ora che il mezzo è parcheggiato ed è sicuro avvicinarsi il mio amico Cody della famiglia Axe ciao a tutti ve lo spiegherà in dettaglio siete pronti? sì cominciamo ok beh questo si chiama Schigen è un mezzo che si usa per spegnere gli incendi è come un camion dei pompieri e un fuoristrada combinati vedete queste ruote giganti? sono come le ruote dei fuoristrada sono enormi sono fatte così in modo che il mezzo non si blocchi quando è nei campi andiamo a vedere davanti qui abbiamo la pala e un rastrello per la sterpaglia questa si abbassa fino a terra spinge via tutti gli arbusti e crea una linea di fuoco così quando le fiamme arrivano lì si fermano andiamo a vedere il retro nel retro abbiamo una tanica gigante d'acqua eccola qui questa è piena d'acqua ne contiene circa 4.000 litri qui c'è un avvolgetubo proprio qui questo tubo può essere allungato per arrivare fino al fuoco per spegnerlo c'è anche una torretta lì sopra che gira e spruzza l'acqua ma prima di mostrarvela andiamo a vedere la cabina benissimo adesso che siamo nella cabina vi mostro un po' di cose questo è il volante ed è quello che si usa per manovrare questo mezzo e invece qui davanti c'è il cruscotto con tutti gli indicatori se premete questo pulsante qui è il clacson sentito? ora guardate dove ho i piedi questo è il pedale del freno e questo è l'acceleratore e poi qui c'è una piccola leva questa alza e abbassa la palla che avete visto prima ma adesso vi faccio vedere la cosa più forte questo è il joystick che controlla il cannone ad acqua guardate vi mostro come funziona è stato divertentissimo girare questo episodio in campagna andate a visitare il canale youtube della famiglia Axe per vedere altri video sull'allevamento bene ciao ciao Blippi Blippi seguimi e vedrai ti divertirai Blippi Blippi il mondo scoprirai molte cose imparerai Blippi 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 Blippi